Automobili in coda ai caselli sotto il soleone. La liturgia dell'esodo estivo si replica su strade e autostrade con 13 milioni di persone in viaggio verso i luoghi di villeggiatura. Lungo la rete Anas è atteso traffico in costante aumento, il tutto in giornate segnate da temperature molto alte di giorno e di notte. Oggi e domani è una situazione decisamente simile, quindi da un punto di vista termico cambia decisamente poco. Ci sarà qualche nube in più sulle Alpi con qualche isolato temporale, però fondamentalmente l'aspetto termico risulta essere l'elemento fondamentale delle nostre previsioni. Da martedì cambia qualcosa anche al centro, arriva un po' di nuvolosità, scendono un pochino le temperature più temporali sulle Alpi, così come qualche isolato temporale si presenterà al centro. E lo spostamento di auto, oltre a subire il caldo, lo produce, soprattutto le automobili alimentate con carburanti fossili, benzina, diesel, metano, che producono molto calore, un po' come se fossero termosifoni ambulanti, a cui si somma il caldo dell'aria condizionata. Infatti per raffreddare gli abitacoli delle auto si disperde calore nell'ambiente circostante.